ciao a tutti amici del mio canale benvenuti in questo nuovo video come vi avevo detto nello scorso video sono stata a vicenza e quindi ho pensato di farvi vedere cosa ho comprato lì e quindi appunto farci il video detto questo iniziamo come prima cosa ho preso questa matita contorno bocca e colore rosso e l'ho pagata 8 euro e 50 ed è della debora anche se non si vede però è della debora poi ho preso da tiger due cosine appena l'ho visti ho pensato subito di prenderle per la loro bellezza e particolarità come particolare è più questo che nel quadernino questo è un block notes a forma di biscotto e punto dentro alle pagine a forma di cerchio rotonde ed è molto particolare quindi per questo voluto prenderlo e l'ho pagato 3 euro e poi questo per la sua bellezza questo quadernino con il panda molto puccioso e peloso e l'ho pagato 4 euro appunto dentro alle pagine a righe per scriverci qualcosa anche se comunque l'ho preso più per la la sua bellezza poi ho preso questo caricabatterie perché mi si era rotto il caricabatterie del tablet e l'ho pagato 29 euro 80 ha il doppio attacco quindi per caricare due cose e alla carica intelligente ed è compatibile sia per ios android huawei per insomma per un po di sistemi operativi poi ho preso questi che ho visto che molti usano per applicarsi le note quando studiano e appunto a me serve per questo e sono a fantasia panda e adesso li apro ve li faccio vedere meglio allora eccoli qua questi li ho pagati 9 euro e 95 e per ogni blocchetto ci sono 100 fogli quindi sono un bel po e mi sembra un buon rapporto qualità prezzo e allora qui abbiamo everything is possible con i due panda quindi tutto è possibile urgent quindi urgente qui il panda che si affaccia diciamo per guardare qui in questo piccolo panda con scritto idee e qui questi qua più piccolini con queste tre fantasie questi con i qua rosa qua celesti righe gialle e questo lo scritto a in veri basi quindi sono molto stanco e sono molto molto carini cioè io li adoro e poi come ultima cosa ho preso questo oggetto qui che è il termoscopio e l'ho aperto per vedere se era in buone condizioni dato che comunque è stato in valigia e allora abbiamo questo oggetto che si presenta così che c'è il liquido in basso e tenendo in mano l'ampolla il liquido contenuto salirà salirà verso l'alto tanto più velocemente quanto più sarà il calore prodotto dalla mano appunto questo oggetto comunque è molto delicato qui abbiamo il liquido e qui diciamo salirà il liquido attraverso questi tubi fino ad arrivare qui quindi si riempie qui adesso vi faccio vedere appunto il liquido sta salendo molto molto velocemente quindi la mia mano è molto calda e poi si mette in basso e dato che non c'è appunto più nessun calore il liquido ritornerà in basso vedete appunto il liquido mano a mano sta scendendo e queste erano tutte le cose che ho comprato a vicenza spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un pollice in su commentate se vi va condividetelo con i vostri amici se siete noi al canale iscrivetevi ed entrate in questa family attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video e noi ci vediamo lunedì con un nuovo video ciao